Buonasera, buonasera, eccovi qua, avete sentito, sembra che proprio da qua, da Vouganeo, ci sono due affetti da coronavirus, sono stati portati a reparti malattie infettive di Padova, due anziani che avrebbero giocato a carte con dei cittadini cinesi, probabilmente residenti qua a Vouganeo, siete preoccupati? Ma no, 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 noi abbiamo l'alcol che ci protegge. Grazie, a parte gli scherzi è una situazione seria perché è una malattia contagiosa, si muore. Non eravamo al corrente di tutto ciò, sì, un po' mi preoccupa a sto punto, non ho mai visto i cinesi qua giocare a carte con noi. No, magari non è questo bar, bisogna vedere in che zona, presumo che ce ne siano altri qui a Vouganeo di bar, dove magari i signori giocavano a carte. Certo che effettivamente è un po' preoccupa. Sì, non so perché non siamo stati informati di tutto ciò, tra l'altro, perché se non me lo diceva lei io non avrei saputo niente. Poi lei è preoccupato questa cosa, di questo possibile, cioè possibile, sembra, stanno aspettando la seconda batteria dei test dallo Spallanzani, che è il centro di riferimento appunto per il coronavirus, che però... Sembra strano che un Veneto giochi a carte con un cinese, comunque no.